La riforma catastale sta spaventando tutti i proprietari di immobili, ma cosa cambierà davvero e chi pagherà più tasse? Mi chiamo Jacopo e sono un consulente immobiliare. Ti invito ad iscriverti al mio canale perché tutte le settimane pubblico nuovi utili contenuti. Prima di cominciare a parlare della riforma del catasto, dobbiamo capire a cosa serve e come oggi funziona. Il catasto, lo abbiamo visto in tanti video precedenti, serve a pagare le tasse. La base di calcolo per tutte le imposte che gravano sugli immobili è la rendita catastale. È un dato importantissimo, anche perché la maggior parte della discussione tra chi è a favore della riforma catastale e chi invece è contro, si basa proprio sul calcolo di questo dato. La rendita catastale infatti viene utilizzata per calcolare tutte le basi imponibili, cioè il valore catastale dell'immobile su cui poi vengono applicate le tasse. Quindi un aumento della rendita catastale significherebbe un aumento delle tasse, una diminuzione, viceversa, significherebbe una diminuzione dell'imposizione fiscale. È necessario anche comprendere come viene calcolata questa rendita catastale. Ora cercherò di farla il più semplice possibile perché in realtà il procedimento è abbastanza articolato. Per farla breve, ogni immobile ha una consistenza catastale, ovvero quanto è consistente, quanto è grande, quanto vale. Nel caso degli immobili abitativi, la consistenza catastale è rappresentata dai vani catastali, quindi non dai metri quadri, ma dai vani. Se vuoi sapere cosa sono i vani ti consiglio di andare a vedere questo video che ho fatto al riguardo perché i vani sono diversi dai locali e hanno proprio un metodo di calcolo completamente diverso. Per calcolare la rendita catastale quindi si prendono questi vani e si moltiplicano per una tariffa d'estimo. La tariffa d'estimo è la rendita unitaria che ha ogni singolo vano, quindi un vano nella tale provincia e in quella microzona rende quella tariffa d'estimo. La tariffa d'estimo moltiplicata per i vani dà origine alla rendita catastale. Ed è proprio qua che si articola la discussione più forte riguardo alla riforma catastale. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo del fatto che sia stata approvata la riforma catastale, ma cosa è effettivamente successo? In realtà la legge che prevede questa riforma risale al novembre 2021. È una legge delega, il che vuol dire che il Parlamento delega il governo, oggi il governo Draghi, a fare dei decreti legge per mettere in atto una serie di riforme dal punto di vista fiscale. All'interno di questa legge l'articolo 6 parla proprio della riforma del catasto. Il centrodestra si era fortemente opposto a questa riforma e infatti il 2 marzo scorso si è votato un emendamento, cioè si chiedeva di cancellare l'articolo 6 da questa legge. Quindi il centrodestra chiedeva di cancellare questo articolo. La votazione non è stata fatta direttamente in Parlamento ma è stata fatta in una commissione che è un sottogruppo del Parlamento composto dagli stessi partiti che compongono il Parlamento che deve votare e decidere su uno specifico argomento, su uno specifico ambito, in questo caso la finanza. L'emendamento che era stato proposto dal centrodestra, quindi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, è stato bocciato, è stata fatta una votazione e per 23 voti contro 22 ha vinto la bocciatura dell'emendamento. Questo vuol dire che l'articolo 6 di questa legge non verrà cancellato e quindi si va avanti con la riforma catastale. Ora su internet si trovano una miriade di articoli, video che parlano di questa riforma catastale ma mi sembravano abbastanza incompleti. Quindi sono andato a leggere direttamente il testo scritto dalla Camera dei Deputati. E questo è quello che ho trovato, quello che è previsto all'interno di questa legge. Il primo punto riguarda il fornire all'Agenzia delle Entrate degli strumenti per individuare e classificare tutta una serie di immobili. Rientrano tra questi immobili da individuare e classificare gli immobili che non sono censiti al catasto oppure gli immobili che sono censiti ma non rispecchiano lo stato di fatto. Quindi ci sono delle difformità catastali e anche qua ti invito ad andare a vedere il video che ho fatto qualche mese fa sulle difformità catastali. Devono essere anche correttamente identificati i terreni che sono accatastati come terreni agricoli ma in realtà sono terreni edificabili. Perché? Perché sui terreni edificabili ovviamente si pagano delle imposte maggiori. Inoltre devono anche essere classificati gli immobili abusivi, cioè gli immobili che sono stati costruiti senza il relativo permesso e magari non sono nemmeno riportati al catasto. Per darti una misura dell'impatto di questi provvedimenti devi sapere che da dei rilievi, dei fotorilievi che sono stati fatti risultano 1,2 milioni di immobili non censiti al catasto. Quindi che completamente non appaiono per l'agenzia delle entrate e su cui i proprietari non pagano le imposte. Quindi in questo primo gruppo di interventi si parla essenzialmente di proprietari di immobili che stanno infrangendo in qualche modo la legge. O hanno degli immobili abusivi o hanno degli immobili che non sono riportati al catasto o sono riportati in maniera difforme. Quindi se devo darti una mia opinione secondo me è più che corretto fare degli interventi di questo tipo. Anche perché se tutti pagassero le imposte che devono pagare magari ci sarebbe spazio per ridurre le imposte su chi già le sta pagando. Qui stiamo parlando di andare a prendere degli evasori, tra virgolette. Un altro punto riguarda la comunicazione tra gli uffici del comune e gli uffici dell'agenzia delle entrate. Abbiamo spesso parlato su questo canale di come non ci sia una integrazione da parte di questi due enti, quindi tra i comuni e l'agenzia delle entrate, e che spesso la burocrazia quando si fanno delle lavorazioni o si modificano gli immobili è doppia. Quindi si devono presentare delle pratiche sia al catasto che all'ufficio di edilizia privata del comune. Questo determina maggiori costi per le persone che hanno a che fare con gli immobili, un dispegno di tempo maggiore, doppio, e quindi di conseguenza uno spreco di risorse. Quindi ben venga un'integrazione anche qua tra l'ufficio dell'agenzia delle entrate e gli enti comunali. Attenzione però che questa integrazione servirà anche per andare a beccare chi ha delle difformità sui propri immobili, perché ci sono tante situazioni in cui vengono presentate delle pratiche in comune all'ufficio dell'edilizia privata, ma non si presenta nessuna pratica al catasto per evitare un aumento delle imposte. E in questo caso con l'integrazione dei database di questi enti, questo non sarà più possibile perché l'agenzia delle entrate potrà accedere direttamente ai database dei comuni e vedere quando ci sono delle difformità e andare miratamente a beccare chi sta infrangendo le regole. Il terzo punto, che è quello che potrebbe magari impattare di più tutte le persone, tutti i proprietari di immobili, riguarda l'accertamento di un valore patrimoniale e di una rendita dell'immobile, ne abbiamo parlato all'inizio del video, attualizzati e con valori di mercato. Sappiamo che il catasto solitamente ha dei valori più bassi rispetto a quelli che si rispecchiano oggi sul mercato. Questo vuol dire che rispetto al valore si pagano delle imposte più basse. La riforma si propone di attualizzare questa rendita e attualizzare il valore degli immobili che sono rappresentati in catasto. Inoltre vorrebbe stabilire dei procedimenti per mantenere aggiornati questi valori e quindi man mano che l'inflazione aumenta, che i prezzi salgono, che le rendite da affitto aumentano, aumentare anche il valore patrimoniale dell'immobile e la rendita. Inoltre verrebbero previste delle adeguate riduzioni del valore patrimoniale e della rendita per gli immobili di interesse artistico e storico. Questo perché questa tipologia di proprietà prevede dei costi di mantenimento e di manutenzione molto più alti rispetto ad una normale proprietà immobiliare. Nel testo redatto dalla Camera dei Diputati viene però specificato che questi aggiornamenti, quindi riguardanti il patrimonio e la rendita degli immobili, non devono essere utilizzati ai fini fiscali, quindi non devono essere utilizzati per il calcolo delle imposte. E questo sinceramente mi sembra alquanto strano. Perché sprecare tante risorse per aggiornare il catasto se poi non viene utilizzato per adeguare l'imposizione fiscale sugli immobili? Nel testo si parla di gettito fiscale, quindi il totale delle imposte. Si vuole mantenere il totale delle imposte derivanti dal patrimonio immobiliare invariato e quindi questi dati non dovrebbero essere utilizzati per ricalcolare le imposte. Nel 2014 era stata prevista un'altra riforma del catasto che poi non è stata portata a termine, ma che rispetto al gettito fiscale dava, secondo me, una soluzione più di buonsenso, cioè prevedeva l'aggiornamento dei patrimoni e delle rendite catastali come è previsto in questo caso. Ma poi chiedeva anche una riformulazione delle aliquote d'imposta, quindi un abbassamento delle percentuali delle tasse che dobbiamo pagare sui valori degli immobili, in modo che il gettito fiscale rimanesse lo stesso. In questo caso cosa cambia? Che i valori degli immobili si alzano, Ma le tasse rimangono uguali perché le percentuali delle imposte si abbassano. In questo modo ci sarebbe stata anche una redistribuzione del gettito fiscale, quindi chi effettivamente aveva un patrimonio immobiliare più elevato avrebbe pagato un po' più tasse, chi aveva un patrimonio immobiliare più piccolo o per motivi di reddito, aveva delle esenzioni a livello di ISEE, eccetera, avrebbe avuto un'imposizione fiscale più bassa. Se invece come prevede l'attuale testo per la riforma catastale si fa l'adeguamento dei valori, quindi dei patrimoni delle rendite, ma poi non si utilizzano per il calcolo delle imposte, è inutile e non cambia la redistribuzione del gettito fiscale tra chi effettivamente dovrebbe pagare di più e tra chi effettivamente dovrebbe pagare di meno. Nel testo dell'articolo 6, quello dove è prevista proprio la riforma catastale, è anche ricordato che nel 2014, nella precedente richiesta di riforma catastale fatta al governo, era previsto anche il cambiamento del dato base della consistenza catastale, quindi cambiare il dato dei vani, quindi sostituirlo, con il metro quadro. Quindi non si andava più a calcolare la rendita catastale partendo dai vani, ma ci si basava sul metro quadro. Questo non è mai stato fatto e a mio avviso sarebbe una cosa abbastanza intelligente, perché il vano catastale non è effettivamente una misura uniforme, perché un grosso ambiente open space di 100 metri quadri ha meno vani catastali rispetto a un trilocale di 60 metri quadri. Quindi si capisce bene che calcolare la rendita catastale basandosi sui vani catastali è una cosa che oggi non ha più molto senso. Quindi abbiamo capito che cosa prevede la riforma catastale che è stata sottoposta al voto negli ultimi giorni. Ma cosa succederà adesso? Già nel 2014, come avevamo visto, era stato delegato il governo per fare dei decreti legge e riformare la situazione catastale. Non era stata portata a termine questa riforma, ma era stato semplicemente fatto un decreto legge che prevedeva di aumentare, di rivalutare del 5% le rendite catastali per il calcolo delle imposte, in attesa che si avessero le nuove rendite, i nuovi valori catastali. Un altro parziale tentativo di riforma era stato fatto anche nel 2005, quando 17 comuni italiani, grazie ad una legge che lo permetteva, avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate di rivalutare il proprio patrimonio immobiliare. A seguito di questa richiesta, in questi 17 comuni, erano stati rivalutati e revisionati più di 300.000 immobili e c'era stato un aumento della rendita catastale pari a 183 milioni di euro. La paura è proprio che questa riforma di cui si sta tanto discutendo porti ad un aumento delle tasse, come era accaduto nel 2005, ma su scala molto più grande, quindi su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, ancora, non è detta l'ultima parola. Intanto, nel testo che è stato votato in Parlamento, si parla di un'entrata in vigore di queste riforme nel 2026, quindi ci sono circa quattro anni. Inoltre, il governo deve effettivamente fare questi decreti legge e la storia ci insegna che, come è successo nel 2014, non sempre la cosa è così immediata, anche perché non c'è mai stato un governo che è arrivato in fondo alla durata naturale. In più, nel testo della riforma, come abbiamo già visto, è previsto che i nuovi dati, quindi l'aggiornamento delle rendite e dei patrimoni non vengano utilizzati per il calcolo delle imposte. Ora, io su questo ho qualche dubbio, perché, ripeto, perché si dovrebbe fare un aggiornamento del catasto, un aggiornamento dei valori, se poi questi non vengano utilizzati per il calcolo delle imposte? A mio avviso, sarebbe più utile rivedere i valori, utilizzarli per il calcolo delle imposte e magari ridurre le percentuali delle tasse. Per esempio, oggi, per comprare una seconda casa, si paga il 9% del valore catastale. Se il valore catastale sarà più alto e si vuole mantenere il gettito fiscale uguale, e io me lo auguro, si potrebbe abbassare questo 9% ad un 5%, un 6%, un 7%, ma aumentando i valori catastali. In questo modo, chi ha effettivamente un valore più alto a livello immobiliare pagherà più imposte, chi ha un valore più basso ne pagherà meno. Ho cercato di darti un quadro completo della situazione, magari alcuni passaggi sono un po' articolati e un po' complicati, ma spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione. Se hai domande o vuoi darmi la tua idea, ti aspetto nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi e confrontiamoci su questa riforma catastale. Ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!